Buongiorno a tutti, lo scopo di questo videomessaggio è quello di farvi capire cos'è il club mondiale della formazione. Direi però perché è nato il club mondiale della formazione, prima di spiegarvi cos'è. Nasce dall'esigenza mia, di miei amici, di miei collaboratori, di vedere una formazione, di avere una formazione di taratura mondiale, però alla portata, senza andare in giro per il mondo come ho fatto io da vent'anni per vedere questi formatori migliori al mondo. Quindi ci siamo attrezzati, io e altre cinquantina di imprenditori, l'amico Nello Acampora, fondatore con me del club, e abbiamo realizzato questo salotto buono della formazione. Il club mondiale della formazione è un club privato, quindi non si accede se non su invito di uno dei leader. I leader sono una cinquantina appunto, sono imprenditori, sono formatori, sono amanti della formazione, sono professionisti. Insieme a loro selezioniamo i migliori nel mondo nelle loro discipline e li portiamo in Italia, esattamente a Vicenza, la Fiera di Vicenza, e tariamo su di loro un programma di formazione, una giornata di formazione molto selezionato. Ovviamente formazione business, nella maggior parte dei casi. Ad oggi siamo partiti il 17 dicembre del 2008, abbiamo avuto Brian Tracy, il famoso Brian Tracy, che ci ha dato una serie di informazioni su quello che è il centrale degli obiettivi, avere un bilanciamento fra la vita privata e la vita professionale. Poi nel 2009 abbiamo avuto Robert Cialdini, Robert Cialdini le armi della persuasione, quindi persuadere le persone, e poi abbiamo avuto il 26 di marzo del 2010 il Jeffrey Gitomer, il re della vendita porta a porta, che ha dato sicuramente una serie di informazioni pratiche. Il club mondiale della formazione ha una caratteristica, ha una formazione personalizzata. Io stesso che porto nel club un centinaio dei miei collaboratori, posso dire che do a loro la possibilità di avere una formazione che non è una formazione commerciale, che non è una formazione che deve prevedere altre cose, ma è una formazione pura. Un giorno, armi pratiche, strumenti pratici, cose pratiche da poter attuare nei nostri giorni. Io ho avuto dai miei collaboratori un feedback enormemente positivo, perché avrebbero dovuto spostarsi in giro per l'Europa, in giro per il mondo addirittura, per vedere questi signori qua. Fra l'altro, la selezione di questi formatori avviene attraverso il board, il board propone una rosa di formatori e poi si arriva al formatore che invitiamo. Gli eventi sono ogni nove mesi, una volta all'anno, il prossimo è in febbraio del 2011, il 25 febbraio, e avremo il piacere e l'onore di avere Jack Canfield, chi di voi sicuramente avrà letto Brodo Caldo per l'anima, avrà letto, avrà visto il film The Secret, ultimamente ha scritto i 64 principi di successo, che è un libro best seller praticamente. Quindi il club mondiale della formazione è una grande opportunità, è una grande possibilità di crescere e di far crescere. Io l'ho fatto perché voglio bene ai miei collaboratori, voglio bene alle persone, ai miei amici e voglio che abbiano il meglio. E con il club mondiale della formazione sicuramente questo si ottiene. Poi il board, composto da questi 50 leader, fa anche altre attività di incontro, di sinergia e quindi si dà luogo anche a delle attività supplementari oltre agli eventi. Diciamo che il club mondiale della formazione, oggi è una realtà consolidata, abbiamo già 5.000 persone che sono venute ai nostri seminari, i seminari appunto si attengono sempre alla fine di Vicenza, durano sempre e solo un giorno e appunto il prossimo è il 25 di febbraio del 2011 con Jen Carfield. Vi aspetto tutti, in sovraimpressione avete il numero di telefono della segreteria del club, l'indirizzo web del sito del club e potete avere tutte le informazioni. Contattate uno dei 50 leader e vedrete che vi spiegherà meglio tutto questo percorso che noi abbiamo fatto. Vi assicuro che è uno strumento straordinario per se stessi ma anche per le persone che si va a coinvolgere. Grazie. Grazie.